Ciao, sono Alessio e se sei di Genova questo messaggio è proprio rivolto a te. Sarà brevissimo, ma ti chiedo di ascoltare con attenzione perché, mi dispiace dirtelo, ma hai una enorme responsabilità nelle tue mani e da quello che deciderai di fare probabilmente dipende l'Italia per i prossimi anni. Ti spiego subito perché. L'11 giugno, quando andrai a votare per l'elezione del sindaco, non starai soltanto decidendo per Genova, ma per tutta l'Italia. Infatti quel giorno non conta quanti candidati e quante liste ci sono, le scelte sono solo due. Marco Mori, della lista riscossa Italia, e tutto il resto. Cosa ti voglio dire? Che votando qualunque degli altri partiti, liste civiche o movimento che siano non farà alcuna differenza. Zero. Lascia perdere cosa ti promettono in campagna elettorale. Tutti rispetteranno come soldatini il patto di stabilità interno, cioè il vincolo di spesa imposto dall'Unione Europea, che comporta tasse e taglia le spese. Questo vincolo è la causa della rovina economica dell'Italia, della disoccupazione, della svendita del patrimonio pubblico, delle privatizzazioni, del mancato salvataggio di Alitalia e di quello che stanno facendo a Montepaschi. E dell'aumento della povertà che è triplicata dal 2010. Perché ti dico che l'unica scelta è Marco Mori? Perché ha detto pubblicamente che non rispetterà il patto di stabilità. E sai cosa? Può farlo perfettamente perché la Costituzione lo prevede. Obbligherà così lo Stato a fornire a Genova tutti i soldi che servono a garantire i servizi e i diritti incomprimibili. E sai cosa vuol dire questo? Che non solo Genova farà un salto in avanti enorme rispetto a ogni altro comune d'Italia, ma questo fatto non potrà essere ignorato dalle tv, dai telegiornali e dai giornali. E di conseguenza anche altri sindaci dovranno adeguarsi per non passare da marionette, che poi è quello che sono. E questo potrebbe scatenare una reazione a catena in Italia che passerà alla storia. Hai capito di che sto parlando? L'11 giugno non è un voto qualunque. Tu puoi scrivere la storia dell'Italia. Per cui ti chiedo, per una volta lascia perdere i colori a cui sei affezionato. Non è la squadra del cuore. È la tua vita. È la vita ed il bene della tua famiglia e della famiglia più grande che è l'Italia. L'11 giugno hai due scelte. Marco Mori, della lista riscossa Italia, per cambiare Genova prima e poi l'Italia intera. Oppure non importa chi, ma contribuirai anche tu alla distruzione della tua città e della nazione. Riflettici bene. È solo una tua decisione. Grazie. 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 Grazie.